buongiorno amici dei fuoricampo venuto questo video di commento su torino inter torino in torino perde di misura all'ultimo secondo con un gol di ottima fattura di broswich e in cassa la seconda scoprita in campionato seconda scoprita in trasferta anche consecutiva dopo quella contro l'atalanta e attorno perdeva due gare di fila esterne da novembre dato ovviamente va preso con le molle visto il valore degli avversari ma è evidente che a partenza di san siro va in archivi per il toro con tanti rimpianti non solo per una prestazione non tanto insomma che positiva dell'inter ma anche per il gioco espresso per il numero di occasioni dette nettamente superiore per quanto riguarda il toro rispetto all'inter quindi non portare a casa punte a termine una partita in cui si crea più di un avversario di questo livello in casa in trasferta è evidente che viene generale nei rimpianti purtroppo si ripete il solito refrendito incapace di pungere contro le grandi squadre scorso abbiamo avuto la conferma visto il mancanza assoluta di vittorie pochissimi gol realizzati contro le grandi quest'anno la musica si sta si sta ripetendo visto quanto è successo anche nella partita contro la lazio che sicuramente avrebbe poi fermato l'inter la settimana successiva però è stata fermata sullo 0 a 0 da toro con una gara sicuramente molto diversa da quello di ieri prima di occasioni prima di per gran parte anche di emozioni in torino ovviamente la classifica in questo momento non è non è un argomento di discussione un argomento che può interessare perché appena appena inizio e perché la squadra ha già fatto capire più o meno quale potrà essere il proprio livello vediamo dalla prossima e già dalle prossime partite sicuramente più dall'ultima partita prima della sosta cosa ci si può aspettare da una squadra che ha confermato anche i casi di inter pregi e pregi difetti che erano ben noti toro ha fatto la sua partita puntando sull'aggressività sulla direzione uomo contro uomo a tutto campo anche se in realtà pure in un primo tempo della quale comunque ite ha faticato anche superare la propria netta campo forse sarebbe dovuto alzare un po a linea del pressing provare a attaccare un po di più invece toro ha pensato più che altro a contenere le ipotetiche fiammare dell'inter che però non sono non sono mai arrivate in futuro di rinetti nel secondo tempo riuscito da campo di nete ha sicuramente ma sicuramente ha presentato un serio grave danno nell'economia del gioco della squadra visto che al di là dell'errore compito sul gol il can si è dimostrato ancora acervo per questi livelli come ancora più che acervo si è dimostrato secca e sicuramente la presenza in campo dall'inizio dell'ex giocatore della spalla è stata una delle grandi sorprese della coppia Juric-Paro sorprese che non ha che non ha pagato bisogna anche dire che la forapena della panchina netto alla parte i giocatori sono entrati quindi praticamente il stesso Ilkan, Singo, Pellegri e poi Zimba l'ultimo minuto aveva praticamente degli ultimi 15 minuti aveva praticamente soltanto dei ragazzi visto che Schultz ha avuto un turno di riposo Carabò era appena arrivato per il resto c'erano Adopo, Garbet, Baglieghe oltre a O-Line ecco quindi è evidente che anche in una partita di questo livello le 5 istituzioni hanno fatto la differenza anche una volta perché anche se gli subentrati dell'Inter non hanno non hanno inciso particolarmente i cambi di tagli sono stati tutt'altro che che rapidi nella seconda metà della ripresa in poi e alcuni subentranti come Veranovo o Also o ancora di più Gosenz non hanno inciso anche se hanno giocato veramente pochi minuti però diciamo che il Toro 5 cambi di livello non li aveva si può poi discutere del fatto che alcune istituzioni come quelle di Pelleghe in stato apposta di un Sanabi evidentemente ma mai a corti di energie e anche per i single per l'Albero sono arrivati forse con un pizzico di ritardo diciamo che la formazione iniziale non ha convinto sia la scelta dello stesso l'Albero magari si è portato sulle motivazioni per la partita contro l'Inter però sicuramente non ha fornito un contributo all'altezza di nessun anno di DeFi soprattutto quella di spinta anche se il single all'inizio di stagione non è senzato un giocatore inamovibile di secca abbiamo detto mentre per il resto insomma la difesa ha bene o male retto molto bene buongiorno per il senso bene Rodriguez non benissimo non benissimo GG ma comunque non è stata sicuramente la difesa il problema del Toro di questa giornata visto che la difesa più sollecitata è stata quella del linter le note positive riguardano ovviamente Vlasic Sanabico e soprattutto Vlasic che è stato protagonista con due assist con un gol si forato in prima persona un giocatore che sta trovando una condizione che può veramente rappresentare uno dei punti di riferimento del Toro per questa stagione considerando anche che a breve potrà esserci anche una sorta di abbondanza sulla tre quarti per quanto riguarda gli attaccanti Sanabri ha confermato il suo un feeling con un gol non eccezionale e a me è mancato di filialistici in alcune situazioni Pellegri non ha avuto tempo per inserirsi in partita quindi è evidente che l'Aramari che l'impianto è è uno degli è il sentimento dominante a termine di una partita di questo tipo perché probabilmente anche lo 0-0 avrebbe sarebbe stato un risotto stretto ecco visto che è una quantità di occasioni non create dall'Inter e quindi invece non sfruttate dal Toro nonostante poi andando vicino abbia dovuto compiere parati importanti non stilisticamente perfette e su conclusioni piuttosto improvvisate e non pulitissime però insomma il Toro, l'uomo lì davanti a portiere dell'Inter il Toro li ha mandati e come e non è riuscito a concretizzare le partite piuttosto che si ripetono come in parte anche quella l'anno scorso a Torino, con l'Inter stesso a Milano, con il Milan in casa con il Milan i derby insomma diciamo che il Toro ha ormai questa tendenza a fare, a provare a fare la voce grande la squadra di giochi però la voce grossa appunto con le grandi ma non riesce poi a pulgere e le caratteristiche sono sempre non ci riusciva l'anno scorso non ci riesce quest'anno perché al metto di una migliore qualità generale forse dell'organico mancano gli uomini gol mancano la personalità nel momento di concretizzare il volume di gioco ripetiamo forse si può fare un appunto alla coppia che gestisce in questo momento vista la la malattia che costringe Iuric a impedisce Iuric ad andare in panchina si può fare un appunto a Iuric al suo assistente al suo vice paro il cambio un po' troppo tardivo e forse aver creduto troppo poco anche alla possibilità di vincere alla possibilità di alzare magari un po' il pressing di alzare un po' il baricento perché le marcature uomo su uomo mai sono non dico che vanno di perla maggiore ma sono molto frequenti nel campionato campionato di serie A non solo da parte di Toro dell'Atalanta ma anche di altre squadre appunto un bel verone la stessa cremonese ma è evidente che innanzitutto è un tipo di gioco molto dispengioso a livello fisico perché purtroppo il torre calato vistosamente gli ultimi 10-15 minuti e contro avversari di questo tipo che sanno confezionare un'azione come quella di Brozovic che al di là di tutto l'assist tra l'assist e la puntata di Brozovic sono due azioni sono due giocate fantascientifiche ecco che riescono a ben pochi giocatori quindi è chiaro che Ilkan non ha un problema di vicinità perché è ben entrato quella è inesperienza però si è lasciato libero quasi insomma senza raddoppio bare dai faricross si è lasciato e si è evitato non si è riuscito a raddoppiare su Brozovic lasciando solo Ilkan su di lui ecco quindi è evidente che negli ultimi 15 minuti la lucidità e la freschezza è venuta meno come obbligo che sia considerando anche il periodo della stagione ma magari è un tipo di gioco che porta a perdere lucidità energie e forse per questo sarebbe servito qualche cambio in più magari sarebbe servito cambiare magari spartito a livello tattico durante la partita fare fasi alternare fasi di aggressione l'altro invece più di mantenimento dell'energia del pallone ma sappiamo che il possesso palla l'amministrazione insomma del pallone del gioco non sono le caratteristiche nella squadra di Udic quindi chiudiamo vediamo cosa ci riserverà la prossima partita l'ultima partita prima della sosta poi sicuramente il bilancio del torno della prima parte della prima parte del campionato quando poi faremo un punto magari al momento della prima sosta della serie A è un bilancio apparentemente positivo anche se va sicuramente detto che le vittorie sono arrivate completamente contro le promosse quindi Cosenza che Cremonese Monzelecce quindi è abbastanza evidente che quando poi il calendario sarà più completo sarà più vittorio avrà sfruttato anche ma non necessariamente le grandi magari squadre del proprio valore come può già essere già significativo in questo senso la partita di sabato contro il Sassuolo potremo capire quasi più anche sulle ambizioni della squadra quindi chiudiamo questo commento ci sentiamo ci risentiamo dopo Torino Sassuolo e con un pizzico di rimpianto per una vittoria per un risultato positivo mancato insomma con qualche domanda lanciata sul tavolo c'è una speranza che magari posso vedere anche il Toro con qualche correttivo anche allo spazio tattico che rischia di essere conosciuto per dalle maggior parte delle squadre e anche per mascherare qualche difetto a livello di pericolosità che è ben noto appartiene a questa rosa vi ringraziamo intanto per averci seguito e alla prossima che rischia di